L'investitore Greybull McLaren conferma l'interesse, l'offerta, la disponibilità a mettere da subito liquidità nuova a disposizione dell'azienda per metterla in sicurezza. Una conferma dunque del forte interesse di Greybull e McLaren è un'offerta che coincide con una strategia di carattere industriale che prefigura oltre al mantenimento delle attuali posizioni lo sviluppo di nuove attività. Così si è concluso l'incontro a Palazzo Strozzi Sacrati sulla vertenza Fimer di Terra Nuova Bracciolini che si appresta a cambiare proprietà. Ciascun attore deve fare la propria parte fino in fondo. Io mi rivolgo esplicitamente alla proprietà, alla famiglia Carzaniga. Adesso c'è bisogno di stabilità, basta strattoni, incertezze, inciampi perché questo è il momento delicato proprio per preparare la ripartenza. In discussione le sorti dell'azienda che produce inverter e che vanta professionalità e prospettive di mercato certe, messe però a rischio dalla crisi finanziaria che proprio Greybull McLaren potrà risolvere intanto con una prima iniezione di 10 milioni di euro necessaria a riprendere le produzioni e pagare i fornitori con la prospettiva di trasferire successivamente 50 milioni con l'ingresso del fondo nel capitale che sanzirebbero la nascita della nuova Fimer. Ho molta fiducia perché vedo persone di grande autorevolezza, di grande determinazione e che riescono a trasmettere anche un senso di speranza e naturalmente il gruppo Greybull McLaren è di assoluta autorevolezza sul piano internazionale. Del resto l'abbiamo sempre detto, la Fimer è un cruciolo di competenze e di prospettiva verso la società green del futuro.